Cento anni fa, il 10 marzo del 1915, a San Lorenzo di Arzene, in provincia di Pordenone, nasceva a Rieto Henry Bertoia. Il comune di Pordenone, quello di Valvasone Arzene, con la Proloco di San Lorenzo, hanno voluto celebrare questo importante anniversario con una mostra articolata in due sedi. A Pordenone, nella galleria lui intitolata, è a San Lorenzo d'Arzene, nella sua casa natale. Un evento che rende omaggio a questo artista, che vedete in queste immagini che si proiettano nell'ambito della mostra. Questo artista il cui lavoro rappresenta ancora un'importante indicazione di metodo, di rigore, di costante dedizione alla ricerca. Negli Stati Uniti Bertoia riuscì a conquistare il successo e raggiungere notorietà internazionale con la linea di sedie Diamond. Era il 1952 una icona del design mondiale, con la sua multiforme produzione artistica, sculture, incisioni, disegni, gioielli. Seppe imporsi per la spiccata originalità unita a un'attitudine sperimentale sia nel campo dei materiali che delle forme. Henry Bertoia appartiene alla schiera non foltissima degli artisti friulani del Novecento, che hanno saputo meritare fama internazionale. La mostra dal titolo Henry Bertoia, dalla natura al segno, racconta il percorso di Bertoia, che si riteneva soprattutto uno scultore. Anche la sua famosa poltrona, Diamond, va interpretata secondo le sue indicazioni, in questo senso.